All'annuoto l'Ortigia cerca riscatto nel match casalingo di domani contro la Rarinantes Salerno. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Trieste e in Euro Cup contro Savona, l'Ortigia cerca riscatto nel match casalingo di domani pomeriggio contro la Rarinantes Salerno dell'ex Valentino Gallo. Match casalingo si fa per dire visto che i bianco-verdi saranno costretti a giocare a Catania, piscina di innesima alle 14.45 e diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Ortigia. La mitica piscina Caldarella infatti rimane impraticabile per via dell'acqua fredda che già tante difficoltà ha causato ai bianco-verdi in termini di allenamento e preparazione, soprattutto nelle ultime settimane. Una difficoltà non indifferente visto che anche nel giorno dopo il rientro del Savona la squadra si è allenata altrove, notando ma non potendosi preparare come meriterebbe una formazione di Serie A1 di tale livello. Difficile parlare di pallannuoto, di tattica, di obiettivi davanti a una situazione simile. Ci sarà bisogno di combattarsi, di tirare fuori tutte le forze mentali e fisiche possibili per affrontare un avversario che non è mai semplice da affrontare.